ciao a tutti luna rossa family amiche ed amici valorosi abbonati benvenuti e ben trovati per l'oroscopo 2024 vedrete ben 12 video che durano dai 20 e 30 minuti ciascuno perché andremo a fare queste previsioni per tutto l'anno andremo a vedere tanti aspetti in questo oroscopo non solo la vostra vita sentimentale ma in generale come andrà questo anno soprattutto certi punti sulla quale siete come dire con una corsia preferenziale altri diciamo che magari potrebbero essere se c'è più scalcagnati dove magari e cose ponete la giusta attenzione potete schivare degli ostacoli allora amici io intanto vi ricordo per chi vuole le proprie previsioni proprio letteralmente e copersonali fai conto che potete contattarmi su whatsapp per metterci d'accordo in questo senso fate conto che la finestra per fare queste previsioni già più o meno scade verso il 2 di gennaio dice perché perché si parte da sowain e noi l'avevamo visto con il nostro video diciamo dove il velo tra della conoscenza dei due mondi è più sottile questo soprattutto per quelle che sono le previsioni del 2024 vale per questo periodo quindi da dopo il sostizio d'inverno circa due tre giorni dopo il sostizio d'inverno è per dura o due tre giorni prima a seconda degli anni è dura per quest'anno diciamo ecco fino a per quanto mi riguarda 2 di genna dopodiché levo totalmente mano diciamo torno alla routine non mi interrogo neanche in questo senso nel fare le previsioni e vi dico anche che non ho avuto il tempo di fare quelle mie personali perché ho accolto tutte quelle che sono le vostre richieste anzi in questo senso mi scuso se con qualcuno diciamo sono ancora in ritardo non mi sono dimenticata avrete tutti soddisfazione a tempo debito e allora a tempo debito o anche diciamo e cose sono un attimino ecco in ritardo comunque in ogni caso l'importante che la previsione la faccia in questi giorni anche se voi il video per esempio vi arriva per dire il 3 gennaio non vi preoccupate l'importante che ho fatto la previsione in quell'arco di allora detto questo amici c'è un video ecco per ogni segno zodiacale andremo a vedere tutto ecco nel dettaglio io semplicemente ecco vi volevo augurare ma di vero cuore un ottimo 2024 che sia per tutti quanti segni diciamo ecco foriero delle più belle soddisfazioni spero che vedremo delle cose molto belle e ovviamente ecco prima di iniziare l'oroscopo di ogni segno io vi avevo messo diciamo ecco una piccola sigla così che diciamo ecco possiamo anche inaugurare molto più allegramente diciamo con con un pochettino di sprint con un pochettino ecco di luci quest'anno nuovo anche noi auguri ancora auguri e buon ascolto per tutti i segni noi ci vediamo comunque in ogni caso per gli update dell'oroscopo settimanale e anche per l'oroscopo del mese di gennaio che arriverà per la vita sentimentale proprio nello specifico nei prossimi giorni va bene un bacione grande e buon ascolto ancora auguri ciao benvenuti amici del segno del toro vediamo cosa vi riserva questo 2024 allora previsioni per tutto l'anno ok vi ricordo che nel corso di questa settimana cioè oggi che posto questo video è il 26 quindi santo stefano nel corso di questi pochi giorni che restano è il tempo utile per fare le previsioni per il 2024 in modo particolare si tratta in special modo di questo perché perché come dire ecco il velo tra i tra virgoletto e due mondi si dice così è diciamo è più sottile quindi tra il presente anche il futuro no allora vediamo cosa c'è per il segno del toro per quest'anno abbiamo qui intanto ecco una torre il matto mondo stella vabbè non ci fate caso se non le metto proprio come un geometra e scusate mi fermo un nanosecondo perché devo accendere la candela la vostra candela ok abbiamo il diavolo wow va bene va bene tanta 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 roba per voi amici allora intanto quest'anno quello che si vede rispetto alla vostra personalità è come dire che per voi è un anno di come dire ecco di di come dire se la dico la parola è quella lì di crisi mettiamola così ma non è una crisi in negativo sapete la torre è la carta peggiore del mazzo non significa come dire ecco che per voi sarà un anno brutto attenzione capiamoci no va contestualizzata la lettura va contestualizzata rispetto al fatto che stiamo facendo delle previsioni va contestualizzata rispetto al fatto che stiamo parlando in questo rispetto a questa a questa posizione diciamo della personalità diciamo degli amici del segno del toro significa che è come se voi in questo anno maturate una versione di voi stessi ecco la crisi diciamo ecco nuova 2.0 vi rendete conto che magari ecco determinate cose a livello di personalità no di quello che vorreste diventare di quello che vorreste fare mettete un po queste cose in discussione c'è questo cipiglio come dire ecco di riscatto però è come se rifate un po i conti quest'anno rifate i conti e tra l'altro questa è una carta che mi dice che volete un attimino anche estromettere dalla vostra vita quelle che sono le aspettative da parte di alcune persone che in qualche modo ecco vi si aggrappano addosso un poco come fossero dei parassiti parliamoci chiaro principalmente si vede questo aspetto qui rispetto alla tua personalità il tuo carattere infatti arriva alla carta del matto è come se tu dovessi ristrutturare la tua personalità il tuo carattere deve prendere il tuo carattere quest'anno una nuova direzione per esempio da persone estremamente che so timida riservata per esempio potresti diventare estroversa potresti diventare diciamo con una persona che che so che condivide pure se fa pasta e pomodori in questo senso c'è ma con quella vena di chi deve prendere una certa direzione io non ti so dire adesso se questa sarà la direzione di tutta la tua vita ma certamente questa è una direzione sicuramente che prende l'avvio muove i primi passi quest'anno allora fai conto che a livello di autostima direi che cambia tutto infatti abbiamo la carta del mondo cioè ecco perché ti dicevo a sé probabilmente c'è per te un anno di rottura è come se tu per dire no quest'anno ti arriva una sorta di riconoscimento ma ricordati che tu hai giove nel tuo segno quindi vai a vedere anche nel tuo tema natale in quale signor zodiacale insiste giove di modo che tu puoi anche fare un po' la quadra rispetto a ciò che sentirai nell'altro segno con questo mondo si vede che tu arrivi a una sorta di tappa una tappa definitiva come dire ecco dove c'è un indietro dove non si torna più appunto indietro quindi ecco perché ti dicevo la nuova versione di te è la versione di te nuova come dire ecco prima sono stato semplicemente io adesso quest'anno sono io che so presidente della repubblica per dire oppure dirigente della delle poste italiane oppure cioè ti faccio un esempio quindi una versione di te come dire ecco nuova assolutissimamente nuova senza precedenti certamente ecco migliorativa ma non solo migliorativa ti dà quell'elevazione ecco la rottura rispetto al passato no come dire ecco non dico che passi alla storia per dire se prima eri semplicemente x quest'anno sei come dire ecco x maiuscolo per dire in che senso passi agli annuari del che so ex sindaco del comune di pincopallo per dire no per dirti o allo status un qualcosa che non voglio dire che fa curriculum ma assolutissimamente che non passa e non può passare in osservato cioè la fa la differenza nella tua vita quest'anno allora attualmente o perlomeno come inizi l'anno inizi con tanti sogni con tanti con tanti desideri con tante cose che hai messo un po' sul piatto delle tue ambizioni personali a dire il vero e questo sembrerebbe l'anno in cui tu queste ambizioni evidentemente le puoi anche non solo coltivare ma anche come dire ecco pianificare e conseguire significa che in particolare diciamo ecco è un anno per te in questo senso particolarmente costimolante dal punto di vista delle iniziative su tante cose infatti abbiamo il mago hai tante cose da gestire tante cose sarai in grado di gestire proprio perché avrai questa fiducia in te stesso questi strumenti è come se fossi in qualche modo ecco trainato da questo giove nel tuo segno in questo anno e ti dirò di più diciamo ecco anche il tuo ambiente circostante come può essere quello lavorativo come può essere quello amicale come può essere quello della tua famiglia certamente diciamo ecco ti dà in questo senso supporto e sostegno con molta continuità diciamo ecco se magari prima come posso dirti diciamo ecco magari eri la più piccola della casa no? la più coccolona quella che tutti quanti volevano difendere adesso quest'anno diventa un leone come si suol dire fai conto che rispetto ai tuoi desideri è come appunto come se quest'anno tu avessi la possibilità di ripristinare come dire ecco una certa giustizia una certa equità nella tua vita come dire con un riscatto quindi anche lì dove tu avessi qualche pendenza dal punto di vista legale anche queste cose in qualche modo ecco muovono i passi in una direzione che è favorevole per te ma non solo ripeto principalmente quello che si evince qui è che proprio per te questo è l'anno non della vendetta capiamoci eh se tu hai qualche qualcosa che ti sei legato al dito non è una questione di vendetta è una questione di riscatto rispetto a chi in passato per esempio non ha creduto in te e che ti ha fatto venire diciamo ecco tante fisime ce la farai non ce la farai riuscirai non riuscirai quest'anno vedi che darai le risposte ma non con le parole veramente con i fatti con la vita fai conto anche che rispetto a quelle che sono le tue intenzioni i tuoi progetti molte di queste cose ehm a dire la verità eh si era visto che tu già ce li hai dei progetti sulla quale stai lavorando ma in realtà molte le capirai eh strada facendo proprio perché ci sarà quest'anno eh probabilmente da subito adesso per un attimo lo vediamo quel punto di rottura eh come dire ecco eh e quindi scoprirai e dovrai scoprire delle risorse dentro di te per far fronte diciamo ecco a queste tue condizioni nuove nella tua vita ehm diciamo che al presente eh a te sembra hai la percezione che mh è tutto un po' fermo eh è come se tu non non stai veramente percependo che ci sono questi cambiamenti all'orizzonte e che già stanno lavorando in qualche modo nella tua vita ti stanno venendo incontro a te sembra semplicemente di vedere ecco la fatica che le cose stanno cambiando lentamente ma questo vale per ora non vale ecco per dopo dopo arrivano come dire ecco quasi all'improvviso ma il punto è che siccome già stanno lavorando nella tua vita già è in corso tutto ciò è come un farsi trovare pronti davanti a tutto questo c'è da parte tua anche un po' di timore rispetto alle novità al nuova quello che vai a costruire anche rispetto a quelli che sono i tuoi desideri le tue responsabilità i tuoi compiti sarò in grado in qualche modo di ehm gestire di fare come dire ecco non la cortigiana rispetto a determinate cose ma proprio l'imperatrice cioè quella veramente che comanda ma con il garbo con la gentilezza con l'amabilità perché poi l'imperatrice porta anche questo tipo di questo tipo di imprinting e ci sta direi che anche un sano timore di chi si rende conto delle proprie responsabilità e il probabile le uniche difficoltà che tu puoi avere probabilmente in certi momenti il disagio di non sentirti come dire ecco forte abbastanza soprattutto lì dove vai a fare magari ecco dei paragoni rispetto a persone che in x circostanze sono magari più scafate di te mi vengono in mente diciamo ecco quelle persone dove per esempio ecco tu sei il neofita in una situazione altri sono magari tu diventi che so primario per dire no però ci sono persone che stanno in corsia da vent'anni e ovviamente conoscono l'ambiente molto meglio di te allora in quel caso conviene quasi quasi anzi leviamoci pure il quasi 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 converrebbe farseli amici anziché diventare competitor la tua forza sta proprio in questo senso nell'affascinare nell'appassionare coinvolgere con gli altri in quelli che sono i tuoi progetti i tuoi obiettivi e i tuoi risultati allora rispetto al tuo subconscio parliamoci chiaro abbiamo la carta dell'eremita un pochetto di freno a mano direi c'è rispetto a mostrare la parte più autentica di te è un anno nella quale chi tra voi ha quella cifra rispetto alla timidezza diciamo si tiene un po di privacy rispetto a ciò che porta veramente dentro no però anche lì rispetto a questi cambiamenti epocali che ci saranno per te a partire ecco da quest'anno perché giovia mi pare che è entrato nel segno proprio nel 2023 o a fine del 2022 adesso non vi ricordo bene fai conto che le cose già cominciano a girare in un certo modo quel giove che è il pianeta più grande quindi parla di espansione non solo per gli amici del segno del toro ma anche per gli amici i segni amici quindi gli altri amici di terra per dire vergine capricorno portano anche a un'espansione che è quella della coscienza un'espansione spirituale ciò non di meno diciamo che però non non viene palesata non viene resa pubblica per il momento come dire ecco è qualcosa che tu che ti tocca quest'anno in qualche modo che ti tocca è come se tu dicessi caspita io per per tanti anni come dire come mi sono sentito ferma allo stesso punto cosa si è mosso ecco nell'universo che ha fatto un po' girare le cose così all'improvviso allora dici ci deve essere una forza ci deve essere un qualche cosa che sfugge e quindi da lì da questo tipo di domande che ti fai per i fatti tuoi comincia anche come si suol dire una tua ricerca se si può dire così spirituale allora cosa può accadere quest'anno come dire con nel tuo futuro immediato intanto aspetta prima di vedere il futuro immediato andiamo a vedere quali che possono essere le illusioni diciamo ecco le speranze e illusioni speranze e gli aspetti legati al futuro della tua vita sentimentale diciamo che qui abbiamo l'arcano maggiore degli innamorati quindi qua parliamo proprio della tua vita sentimentale le illusioni legate come dire ecco alle scelte sentimentali può essere che quest'anno diciamo ecco non è non è proprio la svolta nell'amore diciamo che forse la svolta sia in altre cose però queste altre cose sono il preludio rispetto a come dire ecco poi alle scelte d'amore come dire ecco perché perché è come se non sei più tu che devi essere la persona scelta all'altezza di essere scelta di essere quasi passami il termine persino corteggiata conquistata diciamo ecco da una certa tua posizione che in qualche modo vai a perseguire in questo anno vai a raggiungere determinate tappe determinate tue sicurezze quindi esteriori ma anche di conseguenze interiori è come se tu ti servissi puntellato ti sentissi puntellato puntellato dalla serie di cose per cui diciamo ecco vai anche più tranquillo e più sicuro nella tua vita sentimentale infatti la tua vita sentimentale certamente ecco va avanti cioè è un anno certamente di conquiste ma anche di conquiste di persone come dire ecco di un certo spessore che ti possono come dire ecco in qualche modo sostenere e supportare nei tuoi ruoli qua abbiamo infatti l'imperatore quindi qua come non dico un cambiamento non è esattamente un cambiamento anche questa è una cosa che può essere maturata nel corso diciamo ecco delle tue esperienze dove appunto magari non ti interessa più come dire quel bravo ragazzo la brava ragazza tutta casa e chiesa la persona dalla porta accanto quella che secondo la tua mentalità consideri semplice di quei classici valori eccetera eccetera assolutamente no diciamo che su certe cose è come se tu quest'anno metti talmente il turbo che sei pronto come dire ecco anche a abbattere il muro della diffidenza per conquistare il tipo di relazione a tua immagine e somiglianze cioè per quella che va bene per te non per quello che è un po il sentire comune allora andiamo a vedere ciò che accadrà nel tuo futuro immediato abbiamo la luna quindi significa che magari ecco nei primi mesi non ci sono degli immediati sviluppi o perlomeno le cose accadono sotto traccia è come se si lavorasse mi vengono in mente sai quelle persone come dire ecco che si trovano in quelle situazioni dove stanno organizzando qualcosa per un corso per le prossime lezioni o per elezioni cose di questo tipo non so se se rendo l'idea no quindi ciò che fate nei primi mesi dell'anno è diciamo ecco muovervi non in maniera occulta diciamo ecco chiamiamola in maniera riservata cioè delle cose che possono essere tutte preparato preparatorie e che poi vedranno certamente ecco la la luce in nel per quanto riguarda la tua sfera lavorativa qua abbiamo la ruota della fortuna quindi qua proprio avviene letteralmente il ribaltone quindi penso che principalmente molte delle cose che erano l'amore la tua stima eccetera eccetera dipendono da una certa affermazione lavorativa e qui alla svolta le cose vanno certamente quest'anno a tuo vantaggio soprattutto nel settore ecco del lavoro per quanto riguarda diciamo ecco infatti l'amore e la salute diciamo ecco le situazioni sono come dire ecco la salute dell'amore sono migliorative in quanto vedi qua c'è l'arcano maggiore della morte c'è un processo di trasformazione che viene innescato proprio secondo me da questo ribaltone che avviene nella tua vita già sono cose che tu hai iniziato sulla quale ci stai lavorando solo che quest'anno le consegui come si suol dire allora andiamo a vedere il futuro più lontano ciò che accadrà abbiamo il giudizio quindi una vita che si rinnova alcune cose probabilmente ecco del passato sicuramente te le porterai anche nel tuo futuro sicuramente in termini di valori le cose certamente ecco più importanti che so quelli che possono essere gli amici storici le persone di fiducia eccetera eccetera ci possono essere come dire anche delle persone del passato come dire ecco che alla certa vedono a te che come dire ecco stai facendo una sorta di scalata nella tua vita e magari vogliono saltare sul tuo treno non dico attenzione a queste persone ma sappi che proprio che gli interessa più il treno perché se te vedevano come dire con una pezza davanti e con una pezza dietro stai sicura che non ti venivano a cercare però quantomeno non sono persone invidiose quindi questo te lo volevo anche dire perché altre persone quando ti vedono come dire ecco che tu migliori loro invece sono sempre quelli lì diciamo ecco non hanno l'opportunismo di saltare sul tuo treno e magari dire vediamo come ha fatto lui o lei faccia la stessa cosa io ma invece ti dicono peste e corna perché in qualche modo ecco ti vogliono tagliare la testa per sembrare loro più alti dal momento che tu stai crescendo no allora nel futuro ecco più lontano si vede questo papa quindi serenità pace sopra su tutti i livelli diciamo che quest'anno non hai come dire ecco lezioni da imparare diciamo che probabilmente le lezioni le puoi anche dare in questo senso proprio perché vai a vivere un anno che è certamente costraordinario ricco di esperienze legate a una tua realizzazione personale infine vedi abbiamo il sole che è la carta del successo quindi per te del toro questo è un anno certamente buono è un anno positivo ripeto le situazioni sentimentali non sono quelle legate a quest'anno ce l'ha svolta attenzione ma quest'anno sicuramente hai la possibilità di valutare x scelte come dire ecco per conquistare qualcosa che ti dà come dire con certo tono non so se mi rendo con se si rendo l'idea allora se ci rendiamo conto io mi rendo conto sì allora qui abbiamo come consultante il diavolo semplicemente diciamo ecco è una carta che ti invita magari ecco a prendere in considerazione diciamo ecco l'idea di valutare quegli aspetti che come dire ecco ti tengono con le catene l'unica cosa come dire ecco che forse devi coltivare di più quest'anno è il senso di libertà o se c'è la dipendenza con interdipendenza non con la dipendenza come dire ecco a tornare come dire sotto padrone diciamo ecco in quelle situazioni nella quale come dire con la reciprocità non è come dire ecco un'espressione della libertà ma una espressione che sono clientelare o campanellistica vedi tu di che cosa si può trattare quindi mi raccomando questi aspetti andiamo a vedere per grandi linee tutti e 12 i mesi quindi vediamo la prima terzina gennaio febbraio marzo gennaio la situazione come dire ecco resta scusate devo fare un po di spazio e resta un po di stallo dove era qui resta un po di stallo la situazione di questo mese di gennaio ecco già a febbraio cominciano esserci cambiamenti importanti perché ci sono delle cose che si chiudono per dare l'avvio totalmente a dei nuovi inizi è proprio lì che parte diciamo ecco la chiave per l'avvio del diciamo di tutto quello che può essere di diversi e di grandi cambiamenti nella tua vita più che cambiamenti sono realizzazioni tappe che si raggiungono il mese di marzo è il mese come dire ecco della resa dei conti della non dico della verità però neanche dei bilanci uno si deve rendere conto la spada chi sta con me chi sta contro di me ok forse perché proprio si devono fare evidentemente diciamo ecco dei conti e delle valutazioni o delle previsioni vediamo un po cosa c'è nel mese di aprile allora il mese di aprile sarà un mese particolarmente impegnativo dal punto di vista lavorativo direi estremamente il mese invece di maggio ti farà sentire principalmente si caratterizza diciamo ecco per l'idea di una sensazione come dire ecco di solitudine come un sentirsi come dire ecco incompresi come una mancanza diciamo ecco di aiuti avresti bisogno di aiuti ma bisogna avere anche il coraggio di andare a chiedere gli aiuti forse diciamo ecco questa cosa in qualche modo si riesce se vogliamo diciamo come ostacolo a evitare nella misura in cui tu queste valutazioni le riesci a fare nel mese di marzo ok proprio in virtù di quegli impegni che sopraggiungono però ti dico anche che a giugno è proprio il momento del cambio totale della tua vita no quindi a giugno cambia proprio quindi qua c'è proprio il ribaltone quindi inizia una nuova fase della tua vita letteralmente all'opera come dire ecco proprio lì che magari assume un nuovo incarico c'è un trasferimento chissà che cosa vai a fare no è un cambio è una vita è qualcosa che comunque inizia e anche avrà una fine quindi non è una cosa che quindi mi fa pensare all'idea appunto di una relazione ma insieme anche di un incarico cose di questo tenore vediamo a luglio a luglio ci sono delle grandissime opportunità direi opportunità che puoi cogliere ma anche opportunità che tu vai a creare rappresentato da tutti e cinque pentacoli quindi sono opportunità di di tanti settori che so di possibilità comunque di allargare gli stimoli dal punto di vista intellettuale di avere più conoscenze e scegliere anche tra più possibilità di partner per dire no o anche lì dove c'è un partner di avere più possibilità di diverti la relazione no quindi di veicolarla in più direzioni per esempio che so conviviamo piuttosto ci vediamo una volta a settimana tante tante opportunità puoi avere diciamo ecco di di scelta e da di vita vivere ma anche dal punto di vista eco materiale quindi c'è tanto c'è tanto tutto legato ai nuovi inizi perché abbiamo l'asso quindi ancora una volta ti va da dire giove perché come vedi quando arrivano le ruote della fortuna il mondo gli assi anche qui c'è un altro asso dovete andare a vedere giove del vostro tema natale in quale segno zodiacale cade andiamo a vedere qui agosto agosto amore mio non ti conosco no vabbè agosto qua è la carta che avevamo visto prima delle scelte sentimentali quindi è un mese forse probabilmente voi le ferie voi le vacanze dove l'amore avrà diciamo ecco un suo posto privilegiato direi qui magari chissà potreste pure incontrare una persona speciale se non c'è nella vostra vita o qualcuno potrebbe assumere il ruolo della persona speciale della vostra vita o comunque ci possono essere delle scelte sentimentali diciamo di destino di un certo spessore a settembre infatti ancora nuovi inizi abbiamo il mago il mago andate a vedere venere la luna anche nel vostro segno il mago è ancora una volta chi parla di inizio dell'inizio di cose ma anche mettere assieme che solo dei team delle persone coordinarsi coordinare per far funzionare le cose in un certo modo quindi mi vengono in mente quelle situazioni nella quale che so tu inizi perché che so ti compri una macchina o ti prendi una casa hai fatto un trasloco devi fare delle assunzioni devi organizzare ecco delle cose su tanti campi siccome le opportunità erano tante come vedi adesso le scelte le hai fatte ad agosto a settembre ci metti mano proprio inizi veramente a dire wow sono nel potere andiamo a vedere ottobre ottobre è un mese un po competitivo è un mese potrebbe essere un mese particolarmente ecco sfidante ma non in senso negativo perché voi siete assolutissimamente all'altezza della sfida infatti nel mese di novembre qua si vede la realizzazione abbiamo il re di denari che come dire ecco sotto certi punti di vista per me è dal punto di vista della realizzazione personale la carta migliore di tutto il mazzo meglio ancora dell'imperatore perché l'imperatore nel suo imperare rischia di essere solo ok perché deve in qualche modo coordinare troppe cose l'imperatore e contemporaneamente diciamo ecco deve anche rinunciare perché l'imperatore non non comporta avere il coniuge accanto invece come dire ecco il re di denari alla famiglia punta a costruire la persona che punta al matrimonio ok quindi qua il mese di novembre ti porta anche un buon bilancio con delle cose concrete che tu sfide vinte che vai a realizzare andiamo a vedere dicembre ed è finito l'anno ecco qua potrei dire nel mese di dicembre che è stato un anno di grandi cambiamenti ma attenzione lo finiamo anche con la possibilità di cambiamenti che vedranno la luce anche come dire ecco la più concreta realizzazione nell'anno del 2025 e non ti lascio qui perché vedo anche quest'anno che ci sono delle finanze come dire ecco che migliorano quindi sicuramente non dico che diventi ricchissimo ma avendo diverse possibilità direi che come dire ecco ti arrivano dei riconoscimenti in termini di attestazione di stima in termini di denaro quindi sicuramente un anno positivo anche sotto questo aspetto va bene amici del segno del toro è un anno come dire ecco invidiabile per voi certo adesso come dire ecco farmi capire come vi risuona diventa un poco complicato perché tante cose sono devono maturare nel corso del tempo ma alcune come vi avevo detto già prima già sono comunque ecco in padella che stanno cuocendo quindi eventualmente se vi va potete condividere sotto nei commenti appunto queste cose che già siete le state lavorando ci state lavorando avete come dire ecco un progetto per questi mesi i primi sei mesi di questo anno allora direi che è tutto a chi non dispiace lasciatemi un like condividete con i vostri amici questo questo oroscopo con le previsioni tramite i tarocchi io vi saluto vi abbraccio vi bacio vi auguro un 2024 foriero delle più grandi soddisfazione e felicità in tutti i settori un augurio veramente di vero cuore ci vediamo al prossimo video è ancora buon anno ciao